buongiorno a tutti gli amici di circular farm sono antonio giovanni vi parlo qui da scandici oggi vi presenterò il nostro progetto di termocompostaggio che riguarda in pratica la produzione di acqua calda attraverso il compost come sapete noi il compostaggio quando mettiamo del materiale organico triturandolo precedentemente poi mettendo all'interno di un cumulo come immagino qualcuno di voi già saprà attraverso il compostaggio domestico questo materiale cosa fa questo materiale produce calore attraverso la fermentazione viene chiamata fermentazione aerobica a carica dei batteri quindi sostanzialmente producendo calore la biomassa raggiunge temperature importanti nella fase quella viene chiamata termofila cioè la fase dove la temperatura è più alta si raggiungono si raggiungono dei picchi circa intorno ai 50 60 gradi in alcuni casi anche 70 gradi questo calore viene disperso in ambiente però noi possiamo recuperarlo attraverso questo impianto appunto di termocompostaggio che consiste in pratica nel prendere del tubo d'irrigazione tipo tipo questo è praticamente il classico tubo nero d'irrigazione e farlo passare all'interno del cumulo per diversi diversi metri stiamo parlando di un impianto o di due tonnellate e mezzi di foglie e una tonnellata di substrato esausto dalla produzione di funghi dal fondo di caffè quindi fondo di caffè ricco di azoto quindi sviluppa molto molto calore il nostro il nostro compost per farvi vedere da vicino l'impianto vi faccio vi faccio vedere una panoramica da quassù praticamente l'impianto è questo due metri di raggio e quattro metri di diametro un metro e 70 di altezza circa 150 metri di tubo e praticamente abbiamo il tubo che entra dalla base e fa una circonferenza quindi a circa lungo circa 150 metri e all'interno del tubo scorre scorre l'acqua ovviamente il substrato è molto caldo e ora però vi posso se vi posso assicurare ora non si vede se fuma però se già scaviamo un po leggermente già si vede che fuma e vi posso assicurare che è bollente è veramente caldo perché questa parte superiore è l'ultima parte che abbiamo aggiunto durante l'ultimo compostaggio quindi diciamo questo è il cumulo qui praticamente abbiamo la fermentazione in atto e cosa facciamo adesso praticamente noi possiamo recuperare il calore di questa fermentazione andiamo a vedere però nello specifico la temperatura dell'acqua infatti adesso andiamo a misurare insieme sia la temperatura dell'acqua del pozzo cioè quella in ingresso nel cumulo che la temperatura dell'acqua in uscita per capire un po quanto riesce veramente a scaldare un compost e qui vi faccio vedere la temperatura dell'acqua in ingresso adesso in questo bicchiere ho messo il termometro e praticamente segna 19 gradi e due quindi in questo momento l'acqua entra all'interno dell'impianto ad una temperatura di 19 gradi ed esce ad una temperatura e adesso lo andremo a misurare insieme apriamo un po il rubinetto facciamo uscire un po d'acqua andiamo a vedere un po in questo secchio ho immerso il termometro sta pian piano sta iniziando a salire è una già siamo a 30 gradi e 32 gradi ora poi alla fine vi faccio vedere il termometro quando si fermerà siamo a 36 gradi e 9 39 gradi sta salendo ancora intorno ai 40 io credo che la temperatura sarà intorno ai 40 45 gradi all'incirca comunque intorno a queste temperature qui che non è male perché non è male perché noi nel nostro processo abbiamo la il quella che la fase adesso della pastorizzazione e per pastorizzare abbiamo bisogno di temperature dell'acqua intorno ai 90 gradi e avere l'acqua già pre riscaldata a temperatura di 45 gradi come 44 gradi 8 comunque si è fermato il termometro a 44 e 9 comunque abbiamo la temperatura intorno ai 45 gradi questo significa che risparmiamo tanta energia per alzare il grado della temperatura fino poi a 90 gradi che è la temperatura di pastorizzazione che ci occorrerà a noi quanto dura questo questo fa dura se noi lo alimentiamo il compost di continuo quindi aggiungiamo continuamente sostanza organica fresca il compost praticamente può durare anche un anno non è mezzo due anni ovviamente ad un certo punto la biomassa ogni volta che aggiungiamo biomassa e aumentiamo il volume dobbiamo aggiungere dell'altro tubo per fare circolare ancora acqua all'interno e in questo modo la temperatura sarà sempre intorno ai 45 50 gradi in uscita che non è male come temperatura di scambio e alla fine avremo circa 2 3 tonnellate di compost e che possiamo o venderlo o possiamo utilizzarlo alla all'interno della nostra azienda ecco questo è un esempio concreto di come si può fare agricoltura e come si può produrre energia a partire da uno scarto di produzione agricola che tutti quanti noi abbiamo nelle nostre campagne e che tutti produciamo chi nella viticoltura chi nell'olivicoltura comunque diciamo in in generale in agricoltura ci sono tantissimi scarti organici e possono essere valorizzati per la produzione di energia in questo caso di acqua calda per per scaldare io per questo video ho terminato vi saluto qui e vi ringrazio per averlo visto e se volete condividetelo comunque trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet www.circularfarm.it un saluto a tutti da scandicci al prossimo video ciao ciao